L'ex aiutante della regina ha rivelato il motivo per cui gli incontri privati con sua maestà possono essere registrati pubblicamente. All'inizio di questa settimana è stato pubblicato un video in cui conduce un'udienza faccia a faccia con il generale Sir Nick Carter, il capo di Stato Maggiore della Difesa. Il video è arrivato dopo una serie di problemi di salute che hanno portato il medico a istruire il monarca di 95 anni a riposare. Un esperto reale ha rivelato che i video della regina vengono rilasciati solo in circostanze eccezionali. L'ex addetto stampa della regina, Dickie Arbiter, ha parlato con l'ospite Kate Thornton al Royal Beat. Il signor Arbiter ha dichiarato, buona osservazione sui video. Non succede molto spesso. So ai miei tempi che non lo facevamo spesso, avevamo l'opportunità di scattare foto, ma doveva essere una circostanza eccezionale. Punto una circostanza particolare quando ha incontrato Nelson Mandela, abbiamo poi avuto una troupe video insieme al fotografo, ma non succede spesso. E succede per un motivo. La signora Thornton ha chiesto, di chi, avendo lavorato per lei e molto vicino a lei, come affronterà la sua salute e tutto il resto che sta succedendo nel suo mondo in un momento come questo? Il signor Arbiter ha risposto. Beh, è stoica, e se si lacava straordinariamente bene. Voglio dire, la morte del principe Filippo e lei avrebbe celebrato il suo 74esimo anniversario di matrimonio tra pochi giorni. In precedenza nell'episodio, gli esperti reali hanno discusso di come il video sia stato rilasciato intenzionalmente per garantire al pubblico che la regina stia bene. L'editore reale di Vanity Fair, Katie Nichol, ha dichiarato. Se ripensi al periodo pre-pandemia, ottenere filmati della regina che ha un incontro con il pubblico come questo è stato in realtà incredibilmente insolito. Potresti avere l'opportunità di scattare una foto, ma non otterresti questo video e penso che sia stato rilasciato deliberatamente. La salute della regina è stata motivo di preoccupazione nelle ultime settimane. Le domande sono iniziate quando ha annunciato che avrebbe annullato la sua visita ufficiale in Irlanda del Nord il mese scorso.